Se le dico la parola Bocconi, qual è la prima cosa che le viene in mente? Ricordo i salti di gioia che feci quando ho preso un bel voto in matematica, ricordo gli altrettanti salti di gioia che si facevano e si prendevano quando si prendeva 30, ricordo la vita del pensionato che era... il pensionato effettivamente rappresentava un plus, un qualche cosa di diverso e di importante, perché? Perché la gente che stava lì dentro era gente che studiava e quindi c'era un mutum adiutorium fra coloro che dovevano fare un esame e altri che lo avevano già fatto e quindi praticamente ci si aiutava vicendevolmente. Questo era molto bello. Diciamo questo che negli anni Sessanta, agli inizi degli anni Sessanta, non c'erano tante università quante ce ne erano oggi, quindi chi voleva studiare doveva necessariamente per la maggior parte muoversi da casa. Io sono di Ancona e l'università target di Ancona erano le facoltà di Bologna. Milano era già un'eccezione, era lontana, però non ho visto io delle difficoltà di persone che venivano da lontano qui a Milano. Però difficoltà non ce ne erano. C'era una grande capacità di assorbimento e di adeguamento. Sapevano adeguarsi alle situazioni, sapevano adeguarsi alla società che era cambiata e nella quale si erano venuti a trovare. Come era studiare in Bocconi negli anni Sessanta? In primo luogo credo che siano cambiate le metodiche di studi, i mezzi a disposizione. Faccio un esempio. Quando io ho fatto la tesi non esistevano praticamente fotocopiatrici. Quindi quando dovevo riportare un qualche cosa, ero in biblioteca alla Sraffa, me lo ricopiavo a mano e poi me lo battevo a macchina. Questo significa che si era abituati a lavorare in un'altra maniera e si lavorava a sodo. Anche oggi si lavora a sodo, però con altri mezzi, con altri metodi. Se io ho la possibilità di fare ricerche, cosa so, su internet, con il tempo che avrei impiegato per copiare una pagina, qui ho fatto un capitolo. Oggi si imparano più o meno cose rispetto al passato. Questo è un problema di output. Cosa richiedeva allora e cosa richiede la società oggi? Allora ti richiedevano cose che era possibile reperire con i mezzi di allora. Oggi probabilmente è più verticalizzata la conoscenza. Io faccio sempre l'esempio di coloro che sanno tutto di Dante e non sanno che ha vissuto Petrarca. Quindi, diciamo, la verticalizzazione della cultura porta ormai a questa, a una specializzazione, che è una specializzazione estremamente mirata e approfondita. Che consigli darebbe a un nuovo studente della Bocconi, magari a un ipotetico nipote? Un passo indietro, come si dicevano i romanzi d'appendice. Sembra una domanda mirata, ma mia nipote l'anno scorso si è scritta la Bocconi, quindi... Perché? Si è scritta la Bocconi perché è convinta che bisogna fare, bisogna cercare il meglio. E' una ragazza di 19 anni che fa un ragionamento del genere, per me significa che è una persona molto matura. Non perché sia mia nipote, ma perché mi ha fatto un ragionamento estremamente convincente. Quindi, una persona normale, giovane, che cerca una collocazione dal punto di vista universitario, ha scelto la Bocconi. E questo è importante. Significa che l'idea della Bocconi, nella mente dei giovani, ha la stessa importanza che ha la Bocconi nella nostra mente. Cosa consiglierebbe di imparare meglio a uno studente della Bocconi che magari è andato perduto rispetto ai suoi tempi? La prima cosa è saper comunicare. La seconda cosa è sapere l'italiano. Noi stiamo sempre più parlando in italiese e quindi non dobbiamo mai dimenticare le nostre radici. La lingua è una delle cose più importanti delle radici di un paese, di una nazione. Quindi gli direi impara a comunicare, impara a saperti presentare, a saper negoziare, a saper parlare in pubblico, impara a saper scrivere. I giovani oggi non scrivono più e se scrivono, scrivono male. Io credo che chiunque di voi abbia letto delle tesi si sarà reso conto come siano molte volte addirittura sgrammaticate. Mi auguro che questo in Bocconi non succeda. Qual è la ricetta del successo della nostra università e perché gli alumni Bocconi hanno così successo? Io ho un'idea particolare che probabilmente sarà non condivisa da molti. Quello che ho visto per la mia preparazione, ripeto, poi ho fatto il professionista, quindi praticamente ho conosciuto poco del mercato come potrebbe conoscere un imprenditore, però ho conosciuto molti imprenditori. Una delle cose che mi ha colpito allora era che buona parte dei professori erano anche professionisti. Quindi riuscivano a portare l'esperienza della loro vita professionale nelle aule. E questo era un grosso trasferimento di know-how, un grosso trasferimento di conoscenze. Questo credo che sia una cosa assolutamente importante, specialmente all'epoca. La seconda cosa importante, non dimentichiamo mai che agli inizi degli anni Sessanta c'era una cosa che oggi non c'è più, cioè la speranza. Tutti sapevano che usciti dalla Bocconi c'era qualcuno che li aspettava fuori. Oggi non è più così. Io vi faccio il mio esempio personale, che poi è anche abbastanza sciocco, ma quando io mi sono laureato, diciamo bene, ho ricevuto 104 offerte di lavoro, 104 offerte di lavoro. È una cosa assurda, impensabile oggi. Però questa era la capacità che aveva di attrazione delle offerte di lavoro che aveva la Bocconi. Qual è la caratteristica personale che ritiene di aver imparato o rafforzato frequentando la Bocconi? Non riguardo me, perché caratteristiche che mi riguardano le devono dire gli altri e non le posso dire io. Anche perché non le conosco, sono naturali, diciamo. Ma una cosa sicuramente la Bocconi insegnava ed era la capacità di analizzare fino in fondo i problemi. E questo è fondamentale. È fondamentale perché se non fai un'analisi fino in fondo di una questione, poi dopo non riesci a trovare la soluzione che fino in fondo elimina o risolve il problema. La passione non te la dà nessuno. La passione te la devi dare da solo e devi credere nelle cose che fai.